Amici di Diretta Sport ben ritrovati sui nostri canali Calcio d'agosto, quello che vi andiamo a raccontare ma è già ora di fare sul serio per Tarros e Iglesias che aprono la stagione del massimo campionato regionale Prima giornata di eccellenza che mette contro due matricole di questo torneo Nella passata stagione gironi diversi ma risultato simile per queste due formazioni che hanno di fatto dominato i propri gironi di promozione si affacciano a questo nuovo campionato con l'entusiasmo che serve per non sfigurare in un torneo complesso come l'eccellenza Sarda Tarros Dalai, Calaresu, prova a scambiare con Azzori, pallone complesso ma il numero 10 è bravo a tenerlo in campo Out di destra, cross, subito Calaresu, tocca il pallone con la testa, non c'è nulla per il direttore di gara Prova a far passare questo pallone in qualche modo ci riesce ma il controllo è buono soltanto per un giocatore dell'Iglesia solo per un attimo, occhio alla grande possibilità per Sanna, Sanna mette il pallone dietro, arriva Azzori E qua se lo mangia, occasionissima per l'1-0 sul piede destro del numero 10 Bella traccia centrale dentro l'aria, occhio ad Andrea Sanna che può giostrare questo pallone Occhio ad Azzori, tanto spazio per il numero 10, perde un tempo di gioco ma non il possesso del pallone Mancino di Lai, altra occasione per la Tarros Toro rischia qualcosina con questo passaggio per Mancusi e alla fine riesce a recuperare il pallone la Tarros Azzori prepara il destro e calcia! Pronto a rimettere in gioco il portiere classe 2003 con questa lunga rimessa dal fondo Bella spizzata da parte di Fodis, occhio a Calaresu, vediamo se parte il numero 9 Limitato, occhio perché entra in area, Calaresu prende posizione Crozza al centro, Sanna! La pallaballa sulla linea ma non entra Sei uomini in area per l'Iglesias, arriva il colpo di testa! E il gol che sblocca la partita da parte di, se non vado errato Lepore, dovrebbe essere lui l'ultimo Ad aver toccato con la testa questo pallone E' il numero 4 che è al minuto 40, sblocca la partita Pallone che torna dalle parti del numero 9, si muove Fadda Vediamo se inventa qualcosa Calaresu Lascia lì per l'Iglie che apparecchia, Azzori, Azzori! Ha già pareggiato la Tarros, ci ha messo 3 minuti e mezzo Alberto Azzori per riportare in parità la partita Nasce tutto dall'invenzione di Greenbaum che trova Largo sulla sinistra Simone Calaresu Prima Lepore, poi Alberto Azzori Partita sul 1 a 1, 30 secondi alla segnalazione del recupero Bel pallone per Figos, Marci si cordina e calcia Un gran bel tiro, quello che parte dal destro del numero 10 Estevanato non la tocca E allora rimessa dal fondo per la Tarros Fisico un pallone che porta calcio di punizione per la Tarros Grande azione per Azzori, Azzori! Ha un passo dal gol del 2 a 1 E' un fattore però il capitano della Tarros Che libera la difesa, il pallone ce l'ha ancora l'Iglesias Figos va alla ricerca di Suella Il numero 19 può scegliere cosa fare Calcia di prima Serve L'intervento da parte di Estevanato Si ha parato il pallone Chiamalo schema In 6 dentro l'aria Il pallone al centro Un tocco Poi la palla che è entrata in porta Anche se c'è segnalazione di fuorigioco Per l'Iglesias Che è convinta di aver trovato il bandolo della matassa Subito segnalato però Dal primo assistente la posizione di fuorigioco Da parte del numero 5 Fabio Todd Che dovrebbe essere l'ultimo uomo che ha toccato il pallone Adesso Azzori L'altra parte c'è liberissimo Fada si va invece da Calaresu Vediamo se prende posizione Calaresu sinistro Eccolo qui Simone Calaresu Porta avanti La Tarros Al minuto 39 Passa la squadra di casa Praticamente un minuto Dopo aver rischiato di subire l'1 a 2 Trova il 2 a 1 Con la specialità della casa Di Simone Calaresu Adesso Suella Riuscita Rimonta Completata La Tarros A testa bassa Deve attaccare ora l'Iglesias Per provare a portare via almeno un punto La rovesciata pazzesca di Suella Rimessa per la Tarros E storia questa partita Vince la Tarros 2 a 1 Treplice fischio di Federico Isu Che condanna Alla prima sconfitta in campionato l'Iglesias E lascia invece i primi tre punti Alla Tarros Stagione che inizia nel migliore dei modi Per la formazione oristanese Sì 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 Grazie a tutti.